Siamo in località Villa Andreoli di Lanciano con Carmine Masciangelo che è a capo di un comitato spontaneo di cittadini per denunciare il problema della carenza idrica. La carenza idrica che abbiamo in questi mesi qui a Villa Andreoli non si sono mai verificata nel corso degli anni, specialmente negli anni precedenti, ma negli ultimi dieci anni siamo andati sempre un po' a scendere. E' da febbraio-marzo che continua a mancare l'acqua, addirittura dalle nove e mezza alle dieci di sera fino alle sei e oltre della mattina. Questo incide molto per quanto riguarda i turnisti perché chi lavora la Sevello o rientra dalla Val di Sangro o quant'altro non riesce né a lavarsi per andare al turno o ritornare ai turni. In più, non tutte le abitazioni hanno l'autoclave, dunque non riusciamo ad avere una fonte di ogni casa di acqua. Ciò comporta le caldaie, l'arrivo ritardato dell'acqua, l'aria che sta all'interno degli impianti quando arriva fa girare i contatori. Nostra può essere solo una segnalazione per quanto riguarda il problema d'acqua. Qual è la vostra proposta? La nostra proposta è quella, se ci può venire incontro la Sasi, è quella di chiudere l'acqua dopo le 23 e di riaprirla almeno alle 5 di mattina in modo da poter lavarci la faccia i denti per andare al lavoro e quando rientriamo una doccia. In più, chiediamo se la nostra proposta è quella di se si potrebbe abbassare un attimino le tariffe per quanto riguarda il nostro consumo eccessivo dell'energia elettrica per gli autoclavi o per tutto quello che concerne per l'approvvigionamento dell'acqua. Chiediamo una risposta chiara agli orari. Quanto tempo durerà questa carenza d'acqua? Cosa dobbiamo fare? Solo questo vogliamo da cittadini e da consumatori. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.